Anche Marco Lazetich, giustamente un po' di riposo per Olivier Giroud perché non abbiamo notizia in tal senso. A Vicenza invece Cido, Yasin Adli, poi Raffaele Leao, Marco Lazetich, si è girato bene questa volta Lazetich. Ha recuperato bene. Nel frattempo è stato molto importante. Che palla che ha messo Florenzi su Leao! Era più centrale Calabria in quel campo. Come sempre di Leao ha cercato. Un Milan internazionale, occhio a Salemacher che calcia in porta, la respinta corta e a Rimorchio arriva Marco. È stato lesto a buttarla dentro, causa anche intervento del portiere. Pesta la linea Alexis Salemacher, il pallone va dall'altra parte. Ci possono anche stare ma il Milan non vende Simon Chier. Alexis Salemacher.